Sette secondi per morire. Mai visto. Mai visto. Mai vista tanta feroce violenza. Se sono vivo lo devo a questo apparecchio. Al terribile raggio che esso sprigiona. Tra pochi giorni diventerò l'unico e solo padrone della terra. Operazione Goldman. Mai vista tanta grandiosa diabolica follia. Tanto criminale potere. Mai vista tanta atroce suspense. Tre secondi dopo l'accensione del primo stadio. I raggi devono incrociarsi ad un'altezza variabile fra i 3.000 e gli 8.000 metri. Non esistono misteri più tenebrosi. Non esistono più agghiaccianti pericoli. Operazione Goldman. Operazione Goldman. Operazione Goldman. Operazione Goldman. I segreti della sezione S. Il capitano Flanagan. Ha catturato e ucciso personalmente due agenti cinesi in fuga con i piani del Titan 6. I due assi Formula 1 della sezione S super segreta. E così è riuscito ad ottenere carta bianca dal Ministero del Tesoro. Può spendere qualsiasi somma ritenga necessaria per le sue missioni. Per qualunque cosa. Attento che se mi spari non potrai più incassarlo. Vedi, questa è una birra transistor. Se il mio cuore cessa di battere, trasmette un segnale. Hai trovato i nastri? No. Ho ispezionato tutto l'ambiente senza risultato. Tutto il denaro di Fort Knox. Tutta l'aggressività di una belva. Tutta la ferocia di una tigre. Tuo padre morirà per colpa tua. Guarda. Tutta la fortuna di un uomo che preferisce uccidere che morire. L'astuzia di un dannato furfante. Tutta la seduzione. Il piacere. Il desiderio. Il sesso. Operazione Goldman. Sette secondi per morire. Una spaventosa esplosione di violenza e di terrore per il possesso di una formidabile fonte di energia. Il magma della città sommersa. Operazione Goldman. Sensazionale. Travolgente. Colossale. Un film più. Meglio. Tutto. Operazione Goldman. Sette secondi per morire. 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 Autore dei sorrisi